I distretti irrigui e le opere idrauliche come aule a cielo aperto per la formazione dei tecnici di domani. Ad unire il mondo della scuola e quello del lavoro è stato il Consorzio 2 Alto Valdarno in occasione della settimana della bonifica. Perché la ricerca, i giovani creano valore per il futuro. Quindi far capire subito l'operatività e il risultato delle opere ingegneristiche che possono avere a livello di multiobiettivo crea valore nel territorio e soprattutto crea consapevolezza dei giovani futuri ingegneri. Noi glielo possiamo anche raccontare a lezione ma non è la stessa cosa, penso che il toccare con mano sia decisamente importante. A lezione sul campo gli studenti della Facoltà di Ingegneria Civile ed Ambientale dell'Università degli Studi di Firenze che hanno scoperto con l'aiuto dei tecnici consortili l'attività svolta sul territorio. La Facoltà di Ingegneria per noi rappresenta una sorta di vivaio sul quale costruire poi il futuro del Consorzio, i futuri tecnici, i futuri dirigenti, i futuri livelli apicali del Consorzio stesso. E' sempre una cosa interessante quando si va a conoscere appunto gli sbocchi futuri che potremo avere anche un giorno dopo la laurea magari, quindi sempre interessante. Prima tappa il Cassigion Fiorentino per conoscere da vicino l'intervento che ha portato alla realizzazione del distretto Irrigo numero 8, fresco di inaugurazione. Seconda tappa la Terina per Ginevaldarno dove è in fase di ultimazione un importante intervento di ripristino di una difesa spondale sul torrente Oreno. Sicuramente un futuro pieno di sfide come questa che poi si è realizzata e quindi tanta voglia di fare, tanta voglia di finire di studiare e buttarsi nel mondo del lavoro. Ho voluto in questa giornata ribadire la lungimiranza della legge 79, una legge del 2012, una legge regionale che istituisce per la prima volta in Toscana il concetto di territorio di bonifica su tutta la regione. E questo ha portato a distanza di 10 anni una manutenzione importante e oculata del reticolo di gestione, cioè dei corsi d'acqua, che oggi appunto vediamo ben mantenuti e lo facciamo grazie a circa 100 milioni di euro che ogni anno vengono investiti in questa attività, in questa regione. Grazie. Grazie.